Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Fog of Love, gioco che ho già fatto vedere, così un pochino annunciato, nella terza domenica ludica che ho fatto, e un gioco per da uno a due giocatori, massimo due giocatori, perché ci vedono i panni di due partner che devono iniziare la loro storia d'amore. Un gioco di Jacob Jaskov, che io ringrazio immensamente per avermene offerto una copia per la recensione e voglio cogliere l'occasione per fare un saluto a Miss Meeple, Sara della Cranio Creations, perché sono venuto a conoscenza di questo gioco, ovviamente perché seguo il suo canale, e l'avevo visto, insomma, fra i giochi che aveva trattato e mi aveva molto incuriosito, anche perché lo volevo giocare direttamente con mia moglie. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Fog of Love è un simulatore di relazione, ovviamente molto visto in chiave commedia, dove dovrete portare avanti appunto un rapporto ed è diviso in varie, tra molte virgolette, avventure, o per meglio dire situazioni che vi potranno capitare. Ci sono all'interno, tanto ora lo vediamo, 4-5 pacchettini, compreso un tutorial, dove noi dovremo portare avanti la nostra storia d'amore. Ed è un gioco interessante perché dai primi giorni di conoscenza, dove dobbiamo scegliere dove portare il partner a cena, magari se andare a un cinema rispetto che a un teatro, rispetto che a un parco giochi, o una camminata sulla spiaggia, ma soprattutto poi ovviamente si partirà da un primo momento dove ci sale farfalla in pancia, come se so dire, per andare più avanti e cercare veramente di capire che cosa vuole l'uno dall'altro e dal rapporto. Perché la visione del rapporto, questo non è un gioco di ruolo, sì alla fin fine c'è anche quelle meccaniche lì, però dove voi dovete portare avanti un rapporto e vincete se riuscite a coronare il vostro desiderio. Perché ognuno di voi avrà il suo piano. Inizialmente vi dovrete conoscere perché non vi conoscete, ma più avanti magari il giocatore A cerca di avere una notte di passione col partner B, mentre invece il partner B vorrebbe un rapporto più serio. Oppure semplicemente il partner B cerca di prendersi e sposarsi il partner A perché è pieno zeppo di soldi e ricco. Quindi ognuno di noi avrà una sua missione. Qui non si vince come coppia, qui vinci se porti a compimento appunto qual è la tua strategia in amore. E secondo me è un gioco veramente interessante. Vi spiego un pochino come è al solito, però prima di tutto unboxing, scatola bianca, bella grande con un lui e una lei, colorazione bianca, anche il tipo di disegno è bello. Sembrano quasi illuminati da delle luci dei neon di notte, che si vedono soltanto alle silhouette, ed è molto carino. E poi è bella grande anche perché c'è un bel po' di roba all'interno. Più che altro la roba all'interno è parecchio grande come anche il tabellone di gioco. Apriamo, che tra l'altro questa non si apre da sopra ma si apre a scorrimento. Regolamento di gioco, che come vi dicevo poc'anzi è veramente veloce, anche il setup alla fine ragazzi è una cavolata, anche perché le componenti che ci sono nel gioco, i segnapunti, la plancettina di plastica per tenere le vostre carte coperte, i segna risposte per le varie risposte che sceglierete, A, B, C o D, cose del genere, la plancia centrale e poi anche le regole sono veramente poche. E' molto molto semplice, tra l'altro anche questo scritto in un inglese proprio veramente scolastico e vedete già qui, praticamente è finito il regolamento, quindi è facile, è facilissimo da apprendere. Tabellone di gioco, che è questo qui, che tanto ora poi vi faccio vedere tutto quanto bello aperto sul tavolo. Gettoni divisi, A, B, C o D per i colori, vedete, è un gioco da due e qui ci sono le risposte che in segreto potete dare sulle carte evento. Plancettine di plastica, dove mettere le vostre tre carte che dovete tenere segrete e le dovete vedere soltanto voi. E uno sbotto di mazzi di carte, perché nel gioco ovviamente questo è un gioco che si basa tutto sulle carte e sulle scelte, vedete, le varie opzioni che le carte vi danno. Quindi è tutto quanto un gioco che gira intorno alle carte, infatti come vedete insomma di materiale all'interno ce n'è veramente tanto. Divisori, dove mettere, vedete, anche le vostre carte per dividerle anche direttamente nella scatola, carte drama, vedete tutto quanto, miscellanius divisi anche per colori. Token per segnare i punti, perché anche in questo gioco i cuoricini sono i punti che andremo a guadagnare, le avventure che vi dicevo all'inizio, che sono quelle raccolte nella scatola di base, e contenitori ben inita all'altro di plastica per immagazzinare tutti quanti i vostri segnapunti. Quello che vedete qui sono i token e segnapunti, come vi dicevo, poi invece qua sopra abbiamo le carte destino, che ora vi faccio vedere scoperte, ma dovete sempre tenere coperte, perché i destini ne dovete scegliere uno e lo dovete portare a compimento. Dovete fare tutto quello che c'è scritto, ovviamente con tutte anche le opzioni secondarie, e a fine partita vincerete la partita se sarete riusciti a portare a compimento il vostro destino, ma non soltanto. Poi qui accanto abbiamo le carte scena, che a seconda del setup della partita ciascun giocatore pesca da un mazzo, che ora tanto vi faccio vedere, abbiamo la carta occupazione o le carte lavoro e le carte tratto. Queste qui c'è un modo per pescarle bellino perché è il partner che ve le dà, che sceglie come sarete, ovvero il partner selezionerà i tratti per voi e voi selezionerete i tratti per il vostro partner, così da farvelo un po' in sommisura, ma anche per rendere il gioco più interessante, il partner che vorreste. Dovete scegliere ovviamente uno dei due personaggi dei colori, che c'è sia maschio che femmina, dietro noi abbiamo scelto la femmina, il colore rosa. Mettete un counter sullo zero e ovviamente quando andrete a guadagnare punti questo fare il giro e come arriverà su dieci ci metterete un cursore qui al centro per ricordarvi appunto che i primi dieci punti saranno guadagnati e poi potete andare avanti. Invece in questo tray che vedete qui davanti ci dovete mettere le carte tratto, quindi i tre tratti della vostra personalità che dovranno stare qua su in cima. Le carte invece che vedete qui sono le carte feature. Rettifico rispetto a quello che ho detto prima. Feature più lavoro. Questa è la carta sinossi che vi dice qual è il setup ovviamente di questa avventura che andremo a giocare, avventura d'amore, che è la prima storia ed è quella tutorial, quella più facile che il gioco ci consiglia di fare. Qui avete tutto il setup su come andare a setupare. I punti che vedete che abbiamo messo qui sono quelli che avevamo riportato sui nostri lavori e sulle nostre feature. Quindi questa nostra feature ci diceva di mettere un punto positivo perché questi qui sono ovviamente la vostra personalità. Come vedete questa qui è la dimensione della personalità che sopra è positiva e sotto invece è negativa e ci dice di metterne uno in positivo a curiosity e l'abbiamo messo. Un'altra feature ci diceva invece di metterne uno positivo a sincerity e l'abbiamo messo. L'occupazione il nostro lavoro ci diceva di metterne uno positivo a sensitivity e lo mettete su e un altro ci diceva di metterne uno positivo a extroversion che l'abbiamo messo qui. Quindi questi sono i tratti della nostra personalità di partenza. Poi qua sotto avete i mazzi delle scene che sono sweet col tondo serious col quadrato e drama con la stellina. Quando andrete a pesare che ve lo faccio vedere a breve il capitolo sarà il capitolo che vi dirà da quali mazzi dovete andare a pescare. Tenete conto che di partenza ciascun giocatore ha il suo mazzo di 5 carte e ve lo dice il setup del gioco da quali mazzi dovete andare a pescare. Nella prima avventura sono 3 da questo sweet 1 da serious e 1 da drama. Potete tenere massimo 5 carte in mano. Regola vuole che come ne giocate una sia che sia una scena maggiore o una scena minore la carta la dovete se è una scena minore scartare qua giù se è una scena maggiore metterla qua sotto nell'area di gioco che ora vi faccio vedere. Comunque in qualsiasi caso appena ne giocate una ne dovete ripescare un'altra dal mazzo attuale quello in gioco a seconda del capitolo non potete pescare dal capitolo che volete. E qua giù ci sono tutti quanti i mazzettini che sono tratti occupazione e feature perché nel corso dell'avventura della partita potete anche cambiare i tratti perché uno può cambiare anche per amore o per il proprio partner o per la propria strategia sentimentale e relazione di coppia può cambiare anche tratti della personalità o soprattutto cambiare occupazione perché si può anche cambiare lavoro. Ora vedete questa parte qui e questa parte di qua è dove dovreste andare a mettere tutte quante le vostre carte che noi anche per spazio di tavolo non ci abbiamo messo e ve l'ho fatto vedere prima qua giù nella tray e tutti quanti i segnalini che abbiamo messo da parte comunque dovreste mettervi uno da una parte del tavolo qua e uno dalla parte del tavolo di qua. Poi la prima cosa ah una cosa che avevo dimenticato ci vengono incontro quattro segnalini del nostro colore noi abbiamo scelto il rosa che vedete hanno semplicemente tra l'altro piombati A B C o D e questo serve per fare le scelte il giocatore blu metterà la sua scelta coperta da una parte il giocatore rosa da quell'altra intanto noi le mettiamo da parte perché vi faccio vedere come funzionano si pesca la prima carta capitolo che è questa qua si pesca si gira e si va a leggere ah una cosa i destini queste carte qui devono stare segrete i tratti devono stare segreti tutto il resto perché tratti della vostra personalità che dovete cercare di magari volete mascherarli cose del genere non li dovete far vedere tutto il resto ovviamente può anche essere discusso è un gioco che mette anche un po' di componente rp quindi anche bene in un gioco del genere chiacchierare però ci sono tante cose che non potete dire nemmeno accennare il manuale ve lo fa presente comunque mettiamo in campo questa carta la dovete mettere sempre qua giù che è il capitolo 1 che ci dice possiamo pescare da questo mazzo qui quindi all'inizio della storia ovviamente c'è la dolcezza c'è la voglia di conoscersi e tutto quanto quindi per vedere se il rapporto partirà potete andare a pescare soltanto dal mazzo sweet questo qui col cerchio quindi è quest'altro e la lunghezza del capitolo è di 6 carte quindi dopo che avrete giocato 6 carte scena 1 a testa perché il turn è 1 a io 1 al partner 1 a io 1 al partner il capitolo finirà quindi quando andate a giocare una carta scena la dovrete sempre mettere sopra questa qui vedete no ci sono le scanalature sempre sopra questa qui lasciando visibile soltanto la parte in fondo quindi da dove dovete andare a pescare e la lunghezza quando ci saranno 6 scene giocate alternativa 1 a voi 1 al vostro partner 1 a voi 1 al vostro partner appena qua sopra ce ne saranno 6 il capitolo sarà finito bisognerà risolvere il capitolo e andare avanti come mettete in campo la carta del capitolo che è questa qua dovete subito andare a fare una scelta segreta uno dei giocatori decidete voi chi incaricato la legge ovviamente a voce alta questo qui è ad esempio dove dovremmo andare al nostro primo appuntamento e ci sono 3 scelte A B o C quindi ciascun giocatore ad esempio il giocatore A sceglie appunto A e lo mette coperto l'altro giocatore non lo deve sapere e magari l'altro giocatore sceglie non lo so potrebbe prendere la scelta C e la mette qui in fondo alla carta che si rivelerà solo a fine capitolo ci dirà i punteggi che guadagneremo perché vedete ci sono degli effetti qua giù che ne so se tutte e due hanno fatto la stessa scelta tutti guadagnano 10 punti e allora voi andate ad aggiornare i punti che avete sulla vostra carta questa qui la metto qua almeno si vede andate ad aggiornare i punti e andate avanti se invece ci potrebbero essere delle scelte dove se scegliete la stessa cosa il giocatore e i giocatori invece di guadagnare vanno a perdere 5-10 punti e quindi scalate tanto sotto gli 0 punti non si può mai andare e le carte se ci hanno scritto carte scena minore ne potete giocare quante ne volete quante ne volete se ci avete in mano 3 carte scena minore le potete giocare tranquillamente e metterle poi le dovete scartare qua giù solo le scene minori quelle normali e maggiori si mettono qua sopra se avete carta evento di reazione la potete giocare sopra il turno di un altro giocatore anche quindi fuori dal vostro turno se avete invece una carta segreta dove a volte lo vedete c'è scritto qua sopra secret la dovete tenere segreta e la mettete dalla vostra parte del tavolo vedete qua su in cima ad esempio ai lati c'è scritto secret quindi la mettete qui fino a che una carta non vi dirà di rivelarla quando andate a giocare una carta scena ad esempio vedete c'è scritto partner chooses quindi vuol dire che il vostro partner sarà a decidere non chi l'ha giocata ma il vostro partner quando invece giocate una carta che c'è scritto bot chooses ovviamente invece dovete scegliere tutti e due quindi ciascuno di voi ancora una volta lo vedete dovrà fare una scelta però questa scelta qui sarà sempre fatta con queste monetine che sono qui quindi girate mettetele sempre qua su in cima vedete la scelta poi ok ho fatto la tua scelta va bene giriamo vediamo un po' e guardate la scelta e sempre dovete vedere in fondo il risultato a seconda delle scelte che farete i vostri tratti personalità come vedete andranno a salire o a scendere che ne so se faccio la prima vado qua giù su quello arancione guadagno 1 e quindi piglio un altro di miei cursori e lo metto qua su su quell'arancione magari il giocatore blu aveva fatto aveva scelto la risposta B che è questa qua giù con l'orologio e quindi magari ce ne aveva uno un positivo e ne dovrà mettere uno in negativo questa è una cosa che va sempre aggiornata quindi ipoteticamente andando avanti nella partita potrebbe capitare una situazione come la seguente mano a mano che si va avanti ovviamente ci saranno punti messi da una parte rispetto alla nanta per le risposte che avrete fatto per le strade che avete scelto poi quando andate a giocare una o più carte ricordatevi sempre che voi dovete avere sempre 5 carte in mano e le dovete pescare dal mazzo corrente che vi dice il capitolo quando andrete a finire il capitolo dovrete vedere ovviamente i punti che andate a guadagnare scartate il capitolo lo togliete completamente e andate a mettere il capitolo successivo che vi dice da quale mazzo potete andare a pescare in questo caso dal Sirius ci sono i tratti che vanno risolti e i tratti vedete vi chiedono dei requisiti quindi in caso questo tratto per essere portato a compimento vi chiede 3 di disciplina positiva e voi magari il giocatore blu ce l'ha però ce n'è anche 2 in negativo quindi questo cosa vuol dire vuol dire che per ogni punto in negativo che avete scala un punto da questo quindi se così fosse così io avrei fatto questo tratto perché ce n'ho 3 in positivo ma mettendole 2 sotto è come se in positivo ce ne avessi soltanto 1 quindi dovrò andare a usare carte come vi ho detto prima situazioni che mi permetteranno di mettere altri 2 punti qui perché quelli che ho in negativo o trovo la maniera di farli diventare positivi oppure in una maniera non alta li devo andare a compensare con altri quindi i tratti negativi vanno sempre a scalare da quello positivo ci sono situazioni dove dovrete fare una scelta insieme e vi dirà che potete lavorare di coppia quindi se a me ne servono 5 o 6 qua su in cima però non del mio colore ma anche con l'aiuto del partner potete dire ok qui me ne servono ad esempio 4 sotto ce ne ho 2 che mi vanno a scalare però posso essere aiutato da un altro dal mio partner che anche lui a sua volta ci ha messo dei cubettini colorati di token e quindi comunque anche in coppia superiamo la prova stessa cosa poi si va a fare tutto quanto il giro il punteggio e tutto quanto e se vi posso dare un consiglio giocatelo molto di interpretazione perché è la cosa più bellina a volte anche nelle carte c'è scritto il giocatore il partner si mette a cantare oppure il giocatore andiamo al karaoke e il giocatore che ha giocato questa carta deve far finta di cantare una canzone è un gioco che vuole essere appunto una commedia per ridere non vuole essere sicuramente beautiful quindi non vi deve far deprimere dovete anche giocare un po' così con il vostro partner e poi c'è il destino voi di tutte le carte che avete dovrete scegliere un destino e a fine partita portarlo a compimento perché il vostro destino che ne so essere dominante vi faccio vedere quelli che sono nella partita tutorial oppure essere proprio una bella squadra amorosa essere dei partner equi o amore incondizionato amore incondizionato è quello che vi dicevo prima che dovete far sì che il vostro partner sia particolarmente felice anche a discapito della vostra relazione comunque dovete sempre fare le tre cose e e che ci sono scritte quindi in questo caso la prima è che dovrei avere quattro punti in positivo quassù quindi sempre quelli in negativo me lo fanno scalare più tutte le altre cose che ci sono scritte ovviamente ragazzi è tutto quanto un gioco dove dovete giocare carte ma la cosa bellina è che le scelte o le fate insieme bot o se no a volte voi giocate una carta ma è il vostro partner che deve decidere quindi dovete anche visto che tante cose sono segrete dovete anche cercare di capire come in un rapporto vero il carattere del vostro partner è inutile che le mettete davanti una carta per portarla a vedere una partita di baseball quando sapete che lei vuole andare in discoteca a ballare quindi magari non ne frega niente è molto interessante anche scoprirsi sotto questi punti di vista ci sarebbe anche qualche regoletta in più da dire ovviamente ma la maggior parte delle regole ragazzi è tutta qua fog of love in definitiva è un gioco veloce è un gioco molto interessante è un gioco per due giocatori perché ovviamente è un rapporto di coppia io non penso che possa esistere che si possa giocare in dieci così è una mucchiata quindi è un gioco unicamente per due giocatori quindi è un gioco alla fin fine che potete mettere in tutti i tavoli perché ne vengono fuori anche situazioni molto carine ovviamente e giustamente l'amore può essere cioè può partire la relazione anche fra membri dello stesso sesso quindi voglio dire alla fin fine ci potete giocare anche per ridere con un vostro amico con la vostra amica del cuore o con la vostra amica del cuore è un gioco molto tranquillo che non va mai su termini sconci o cose troppo spinte è una commedia di amore dove come vi ho detto ognuno di noi ha un obiettivo quindi magari il mio obiettivo perché non me lo posso inventare ho una carta in mano che mi dice te dovrai fare qualsiasi cosa perché il tuo partner sia felice quindi fai qualsiasi cosa quello che ti pare basta che il tuo partner sia felice quindi te dovrai far salire il livello di felicità del partner i cuoricini magari la missione del partner ve l'ho detto è riuscire a portarvi in casa perché vuole avere i vostri soldi oppure ha un secondo tornaconto oppure semplicemente anche una notte di pura passione quindi ognuno di voi avrà la sua missione il suo obiettivo e quando sarà finita la partita se riuscirete a completare il vostro obiettivo se non riuscite a completarlo non è andata in porto la vostra strategia di relazione sentimentale quindi un gioco molto interessante è un gioco fresco è un gioco con un regalamento di poche pagine è un gioco immediato ed è un gioco che potete portare a tutti i tavoli perché poi ve lo dite è bellino anche giocarci con un amico e vedere un po' cosa rimane fuori che poi c'è anche un po' l'interpretazione del personaggio forse il lato negativo però per ora speriamo poi più avanti che non sarà più così c'è soltanto la versione inglese quindi la versione italiana di questo gioco non esiste ma spero che qualche editore lo porterà in Italia perché è veramente molto 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 interessante e divertente se li devo dare un voto a Fog of Love assolutamente li do un 7 su 10 meritatissimo è un gioco che forse non ha una longevità estrema per quanto le carte evento sono differenti però una volta che hai giocato tutte quante le buste le relazioni sentimentali un po' il gioco ovviamente si rallenta però ve l'ho detto è interessante anche così una volta più scherzo una volta giocarlo col proprio ragazzo o con la propria ragazza e una volta magari giocarlo col proprio amico o la propria amica o magari fratello sorella è anche interessante per venire fuori magari non ti aspetti una mossa da un tuo amico o da un parente e ci rimani un pochino è molto bellina la situazione che si va a creare quindi un 7 su 10 secondo me è meritatissimo primo link in descrizione dove andarla ad acquistare e a seguire tutti quanti i link dei nostri social importante seguiteci soprattutto su instagram perché spesso quando facciamo un video una partita un gameplay facciamo anche qualche immagine diamo anche qualche informazione sul gioco stesso fatemi sapere cosa ne pensate e alla prossima ciao